Ultimo Gran Premio prima della pausa estiva della Formula 1, si è corso all'Ungaro Ring la gara del GP di Ungheria e ancora una volta abbiamo molto da raccontare, soprattutto per le sbagliate da parte del Muretto Ferrari che come a Silverstone boicotta la gara di Leclerc di fatto negandogli sicuramente un podio, forse una vittoria con una scelta molto discutibile dei pneumatici. In una gara che di base si basa sulle strategie delle auto e non prevalentemente sui sorpassi perché sappiamo che l'Ungaro Ring non è un circuito dove si supera molto, abbiamo solo due punti di staccata, di sorpasso, ovvero curva 1, curva 2 e curva 4, è evidente che il Muretto gioca un volo fondamentale. La Ferrari non lo ha fatto e è per questo che abbiamo avuto un podio che di fatto è lo stesso della Francia perché questa immagine che vediamo è sicuramente la più emblematica perché vince Max Verstappen, secondo lui si è Hamilton e il terzo George Russell. La cosa che fa più specie in realtà di questa gara è che Verstappen e Hamilton partivano after the music per vari problemi perché la Mercedes era competitiva sì ma con Russell che peraltro partiva dalla pole position, aperta parentesi giro clamoroso del 63. Verstappen ha avuto problemi in Q3 e dunque è partito decimo con la Red Bull addirittura una delle due fuori dal Q2 perché partiva undicesimo Perez. Hamilton si è ritrovato a partire a metà della zona punti quindi dalla sesta posizione a memoria ed è arrivato sul podio. Manca la Ferrari, manca una Ferrari che un po' boicotta la gara di Leclerc e con una strategia rivedibile a essere buoni appunto regala la vittoria a Max Verstappen che comunque ha avuto il merito va detto insieme alla Red Bull di optare per una strategia azzardata. Spesso la Red Bull a onore del vero fa questi undercut mega anticipati per mettere in difficoltà gli avversari e ci sono riusciti. Certo con questo merito Ferrari apparentemente si fa tutto molto più facile perché non è la prima volta che succede in questa stagione per la casa di Mananello però è anche vero che comunque bisogna azzardare. Verstappen ha azzardato una doppia gomma gialla al 39esimo dei 70 giri previsti e l'ha dato a vincere peraltro meritatamente a sto punto con 10 secondi di vantaggio su Lewis Hamilton che anche lui ha azzardato che sia diversa ma fermandosi più tardi rispetto alla Red Bull andando con gomme morbide. Gomme morbide che hanno performato quantomeno sulla Mercedes meno su altre vetture tanto è vero che addirittura Hamilton si è preso il lusso di superare Russell che partiva davanti e avrebbe meritato secondo me qualcosa di più di questo terzo posto. Dei tre secondo me il pilota inglese con il numero 63 quindi George Russell è quello deluso in questo podio. Chi indubbiamente è però il deluso del weekend oltre che del giorno è la Ferrari perché la Ferrari ricordiamo che partiva seconda e terza in qualificazione dietro a George Russell e arrivano quarti con Carlos Sainz e sesti con Charles Leclerc. E qui ci andiamo giù pesante perché da tifoso McLaren comunque è importante analizzare le strategie degli altri top team per arrivare al livello dei top team qualora un domani Norris è segnato di vincere il titolo del mondo ma in generale da appassionato di corse e assistente diciamo di una lotta al mondiale molto interessante sulla carta tra Verstappen e Leclerc in particolare le strategie sono evidentemente a tenere d'occhio. E soprattutto lo ripeto ancora una volta in una pista come l'Ungheria dove si supera poco le strategie sono molto importanti. La Red Bull che è un team molto competente in merito è sempre stato anche negli anni bui un team con le strategie cercava sempre di inventarsi qualcosa in più ha dimostrato di avere una marcia in più rispetto a questa Ferrari. Una Ferrari che fa di fatto retrocedere Leclerc in sesta posizione facendogli perdere altri punti per il mondiale perché adesso Verstappen per il quale suona per la seconda volta consecutiva. Helvi Lelmos come in Francia sono 258 punti 80 sono i punti di distacco di Leclerc che gli è stato montato un set di gomme dure che onestamente non ha assolutamente senso di esistere. Anche Margenet in telecomaca pilota Ferrari peraltro ha constatato che le gomme dure non funzionavano. Bastava vedere i piloti dell'Alpine, dell'Alfa Romeo che hanno messo la stessa mescola di gomme e prendevano veramente i secondi al giro. Entra Leclerc, stacco immagine dopo il commento di Genet il box Ferrari mette gomme dure a Leclerc. Ilarità generale e probabilmente in casa mia è sconforto probabilmente nei tifosi della Ferrari perché è incredibile come ancora una volta un po' come a Silverson. La Ferrari diversifichi le strategie e boicotti la gara a Leclerc. Boicottare è un termine evidentemente molto forte però rende molto l'idea di come evidentemente il pilota Monegasco che ha tutti i mezzi per giocarsi il mondiale con una macchina che abbiamo visto essere competitiva soprattutto in questa pista di Ungheria nelle libere e nelle qualificazioni non si è riuscito neanche a portare a caso un podio perché anche Carlos Sainz è finito quarto ma Leclerc fa ancora più incazzare i tifosi della Ferrari e giustamente direi perché Leclerc al momento del pit stop che è avvenuto poco dopo il sorpasso clamoroso fatto su Russell era primo evidentemente e Leclerc con le stesse dirige degli avversari quindi i vari Russell, i vari Verstappen nella specie erano evidentemente in lotta per la vittoria e Leclerc c'era in lotta per la vittoria e quantomeno per il podio. Con gomme dure è normale che alla fine si è procedendo in posizioni anche perché Russell lo ha sverniciato si sono resi conto poi giustamente che in Ferrari con le gomme dure si perdevano troppi secondi al giro Leclerc dulcis in fondo rientra con le gomme rosse troppo tardi e finisce sesto di fatto ultimo dei top 3 team qualcosa di clamoroso e con Carlos Sainz è successo un'altra cosa particolare ovvero diversificare le strategie appunto come a Silverson e come a Silverson in misura minore in questo caso la strategia ha favorito lo spagnolo che è arrivato quarto con gomme morbide con appunto un passo importante non aveva di certo il passo di Hamilton un Hamilton che evidentemente sfrutta una Mercedes molto migliorata e i maligni dicono che la FIA stia aiutando evidentemente la Mercedes a tornare quella competitiva ovvio la Mercedes è una scuderia seria e anche la Mercedes sta facendo di tutto per poter rientrare di fatto in lotta per il titolo del mondo certo che appunto alcune normative possono fare come dire raddrizzare le orecchie e le antenne ai maligni certo che comunque vedere una Mercedes che si è risollevata dai secondi in pista a po' di concostanza la dice lunga su quanto evidentemente le altre squadre sono migliorate e la Ferrari si è rimasta un pochino nei ranghi di inizio stagione la Ferrari probabilmente è rimasta nelle prime 3-4 gare dove evidentemente era competitiva e poi dopo qualche sprazzo qua e là è evidente che le macchine da battere a questo punto siano non solo le Red Bull ma anche le Mercedes perché Hamilton fa secondo e Russell terzo Sainz appunto abbiamo detto quarto ma è appunto frutto anche di una strategia diversificata che peraltro era leggermente più comprensibile di quella di Leclerc perché se appunto devi azzardare qualcosa di diverso ha senso piuttosto azzardare uno stint 2 di gomme media più lungo e mettere delle gomme morbide cosa che ha fatto Sainz e cosa che peraltro ha permesso Sainz di guadagnare posizioni evidentemente con questa strategia Leclerc non avrebbe avuto probabilmente la chance di vincere ma poteva giocarsi il podio che comunque era meglio certo che fa abbastanza spavento vedere come la Ferrari sia una maestra nel buttare nel rudo le gare che potevano essere già vinte o quantomeno garantite sul podio soprattutto in questo contesto perché se tu parti secondo e terzo e i tuoi avversari partono decimo e undicesimo al secolo le Red Bull non puoi permetterti di fare di fatto la gara del gambero con una quarta e una sesta posizione dietro ai rivali che si giocano il titolo del mondo è qualcosa di incredibile e inconcepibile speriamo che la pausa estiva possa dare manforte alla Ferrari per rimettere in sesto le idee e tornare a fare strategie più competenti come Mercedes e come Red Bull altrimenti il Mondiale è bel che è indirizzato come ho detto già peraltro nel podcast della Francia il Mondiale è ovviamente indirizzato 80 punti in 9 gare per carità si possono recuperare ma se l'avversario di Verstappen è questo muretto Ferrari è un Leclerc impotente per colpe non sue tanto vale evidentemente chiudere il Mondiale in anticipo e darlo a Max Verstappen per il bis del titolo del mondo dello scorso anno per quanto riguarda le altre posizioni c'è Sergio Perez che finisce quinto che fa una buona gara per via appunto anche della qualificazione non propriamente felicissima fuori in Q2 ricordiamolo Sergio Perez Drier che abbiamo detto è stradetto sesto con molti rimpianti settimo è Lando Norris per una McLaren che a tratti si è vista finalmente competitiva evidentemente la McLaren ha fatto dei progressi anche lei non ai livelli di Mercedes è ovvio ma ha fatto dei progressi per arrivare secondo me a una buona quarta forza del Mondiale non siamo il tifoso McLaren competitivi evidentemente per dei podi ne abbiamo fatto uno con Russell e la Iwala peraltro io c'ero ed ero presente dal vivo a vederlo e sono contento di questo certo è faticoso con una McLaren così avere solo Norris competitivo perché anche Ricciardo oggi ha fatto abbastanza fatica e sarebbero secondo me due macchine competitive un po' come hanno Mercedes un po' come a Ferrari un po' come a Red Bull ottava posizione per Fernando Alonso per una Alpine Renault che comunque fa sempre il suo riesce a portare entrambe le macchine a punti peraltro Alonso e Ocon se le sono date in partenza con il francese che va a difendere estremamente sull'esperto pilota spagnolo peraltro Ocon finirà dietro al suo compagno di squadra più titolato in una nona posizione e decimo è Sebastian Vettel di cui comunque dobbiamo parlare perché sappiamo tutti che Vettel in settimana ha aperto un profilo Instagram dove come primo video ha annunciato il profilo delle competizioni al termine di questa stagione un pilota che ha vinto 53 gare in Coppa del Mondiale 14 con la Ferrari un pilota che ha vinto solo con quella Red Bull aerodinicamente perfetta tra il 2010 e il 2013 e poi ha buttato nel rudon mondiale nel 2018 con la Ferrari e poi si è barcamenato un po' lottando con l'emite un po' gli anni disastrosi del 2020 e anche un po' questi a fine carriera è comunque un pilota che umanamente ha tutto il mio rispetto fuori Sebastian Vettel si è sempre fatto notare per iniziative promozionali di tutti i tipi è una persona che umanamente veramente è amato da tutti e anche dai tifosi per quello è rimasto ben impresso come pilota purtroppo con due della carriera in un Aston Martin che si sta migliorando ma non è poi così competitiva un po' come ci si aspettava visto che parliamo di fatto di una Mercedes B o quantomeno era paventata come una Mercedes B peraltro note di mercato si fanno quattro nomi per l'associazione di Sebastian Vettel il prossimo anno ovvero Nick De Vries nome che io vedrei benissimo in quanto pilota Mercedes e Aston Martin è cliente Mercedes in Formula 1 del RISD program ha vinto Formula 2 e Formula E è un pilota che mi piace veramente un sacco Nick Hulkenberg che è l'attuale terzo pilota dell'Aston Martin che ha corso due gare quest'anno Mick Schumacher che è uno dei protetti di Sebastian Vettel e poi si parla anche di altri piloti che possano magari riscattarsi vedi per esempio Ricciardo vedi per esempio altri innesti dalle scuderie vedi per esempio Fernando Alonso che comunque non è in buoni rapporti con Alpine ha già detto che vorrebbe andare via insomma sarà un mercato caldo per quanto riguarda le sedile dell'Aston Martin e ne vedremo l'anno prossimo che cosa succederà tutto questo per una Formula 1 che quantomeno allunga il ring ha dato spettacolo per essere spagliata della Ferrari ma mi ha regalato un contenuto di cui parlare e tanto Formula 1 che tornerà in Belgio dopo una pausa di un mese al circuito di Spa-Francorchamps si correrà come al solito a fine agosto così come correranno a Spa-Francorchamps la Formula 2 e la Formula 3 di cui andiamo a parlare adesso per concludere il Racing Podcast la Formula 2 va in vacanza con Felipe Drugovic leader di campionato ma ha un vantaggio più ridotto rispetto alle gare precedenti perché il pilota brasiliano fa molta fatica soprattutto nella feature race feature race che vince il suo diretto rivale ovvero il francese Theo Kurscher terza vittoria della stagione per il giovane pilota della Sauber e dunque suona la marsigliese per lui in seconda posizione abbiamo il brasiliano Enzo Fittipaldi che sull'Hungaro Ring si è fatto da Dio con la macchina del team Charger Racing System e terzo è Ayumu Iwasa giapponese che anche lui è in rampa di lancio partiva dalla pool il pilota del Red Bull Junior Team che corre per il team Dams ma non è riuscito a capitalizzare vince invece la gara sprint Jack Doohan l'australiano figlio di Mick per cui suona ancora una volta Advance Australia Fair lino nazionale australiano seconda posizione per l'estone Yuri Vips che è stato tanto discusso per essere stato cacciato fuori dal team Red Bull per aver detto in un live su Twitch la parola con la N e terzo appunto è Enzo Fittipaldi di cui sopra in un campionato Formula 2 che si sta riequilibrando perché Drugo vince in difficoltà e i diretti avversari soprattutto Purscher hanno ingranato la quarta e di conseguenza attenzione perché in Belgio ci può essere una lotta fondamentale una lotta fondamentale anche in Formula 3 campionato veramente bellissimo ed equilibratissimo perché ci sono tre piloti nel giro di nove punti abbiamo a pari merito in testa Isaac Ajar pilota del Red Bull Junior Team che corre per il team Hightech e Victor Martins alto francese che corre invece per il team Art Grand Prix il terzo incomodo invece è Arthur Leclerc che appunto non raccoglie tantissimi punti ma comunque accorcia rispetto ai sui diretti avversari che hanno steccato va detto la gara dell'Ungheria per quello che è stato un appuntamento degli altri perché vince Caio Collette il brasiliano per cui suona il giugno nazionale per la prima vittoria quest'anno Caio Collette è un giovane del team Alpine e corre per il team MP Motorsport seconda posizione per Franco Colapinto argentino che ha vinto una gara a Imola quindi altro podio per il team Van Amersfoort terza posizione per Cushmeni che è fratello di Arjun che corre nel DTM primo podio in carriera per l'Indiano vince Alexander Smogliar invece gara 2 uno dei piloti più interessanti secondo me di questo circuito anche lui corre per il team MP Motorsport team olandese che fa veramente doppietta per Smogliar però non so nessuno nazionale in quanto corre con le insegne neutrali della federazione seconda posizione ed è un podio che saluto volentieri per Zayn Maloni il barbadiano conquista la sua prima piazza d'onore della carriera e primo podio per appunto colui che viene dall'isola e Barbados Maloni è il primo pilota delle Barbados ad aver vinto un campionato europeo in generale a corso l'Euro Formula Open e la stravinta e dunque in Formula 3 qui fa il primo gol della carriera e terza posizione per Oliver Berman che è un inglese del team Prema e corre per il Ferrari Junior Team per un campionato che in Formula 3 ha ancora tre appuntamenti sei gare in tutto tra Spa Olanda e Monza si deciderà il campione di categoria tre piloti per un mucchione terribile che decreterà il titolo del mondo di questa categoria in attesa appunto dell'anno prossimo per vedere chi passerà in Formula 2 Formula 2 che invece chiuderà i battenti ad Abu Dhabi così come la Formula 1 ci ritroveremo però tutti in Belgio a fine agosto questo dunque era il Racing Podcast per quanto riguarda la gara dell'Ungheria ci rivedremo invece sempre per quanto riguarda i motori per quanto riguarda la MotoGP che riprenderà i battenti per questa domenica prossima che si corre a Silberstone spero di far uscire anche il video sulla Superbike che è corso in contemporanea per la Formula 1 all'autodomo di Most e poi parleremo anche di Baseball perché è il tempo dell'MB Review del mese di luglio mese fondamentale per la 3 Deadline e anche il post All-Star Game e saluto da parte del Medio Torgard ci vediamo a un prossimo video